ragazzi ecco il re del camion di Schilpario il re delle patate franco detto patata una leggenda della valle è vero o no patata è vero col camion voi andavate in giro con la copertina lui è andato in giro con la copertina del Buh milioni di chilometri bravo ricordo metto su facebook youtube youtube